Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i funghi fritti, sia in pastella che impanati. Iniziamo preparando la pastella. Alla farina aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Mescoliamo bene e aggiungiamo l'acqua frizzante gelata, poca alla volta, fino ad ottenere una pastella fluida, ma non troppo liquida, deve essere abbastanza densa. Ottenete la pastella, vedete questa è la consistenza che deve avere. La copriamo con pellicola trasparente e la mettiamo in frigo. Ora andiamo a pulire i funghi. Quindi eliminiamo parte del gambo e poi so bene che i funghi non andrebbero lavati, però io una piccola sciacquata sotto l'acqua corrente gliela darò. Quindi eliminiamo il gambo e li mettiamo da parte. Puliti i funghi e sciacquati sotto l'acqua corrente, li tamponiamo con carta assorbente così. Mettete così e ricoprite con altra carta assorbente. Tamponate delicatamente e poi mettete gli altri funghi. Tamponati bene i funghi e andiamo a tagliare. Quelli che saranno piccoli, basterà tagliarli a metà. Quelli più grandi invece facciamo così. Oltre a fare i funghi fritti in pastella, li andremo a fare anche fritti impanati. Quindi abbiamo bisogno di farina, uova e pangrattato. Al pangrattato ci aggiungiamo il prezzemolo tritato e l'aglio tritati. Quindi proviamo i funghi, prima li passiamo nella farina, poi l'aglio tritati. Nell'uomo sbattuto, così. E quindi nel pangrattato. Premiamo bene per fare aderire il pangrattato al fungo. Andiamo a friggere i funghi in pastella. Quindi avvolgiamo i funghi nella farina. E quindi rituffiamo nella pastella. eliminiamo la pastella in eccesso così e andiamo a friggere. quando i nostri funghi saranno ben dorati così, li alziamo dall'olio e li mettiamo su carta assorbente. E adesso andiamo a friggere quelli impanati. mi raccomando non aggiungete il sale nella panatura adesso. I funghi andranno salati una volta fritti, appena prima del servizio. Quando sono ben dorati li alziamo e come sempre li mettiamo su carta assorbente. I funghi sono pronti, belli asciutti e croccanti. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima, ciao!